e quindi quando c'è con i primi perchè questo è caldo qui, ok? comunque il mio mare lo fa sempre si sente la differenza tra i primi e i primi ma il corpo nel forno e il corpo alla braccia perchè la rostriciana ha perso il ruolo di sito comunque è buono io onestamente viene meglio con il forno io lo trovo bene